Sapete, mi sono chiesto se Star Wars poteva essere horror Siamo su Star Wars Death Trooper Molto tempo fa, in una galassia horror lontana, lontana Eccoci, siamo noi questo Siamo in una navicella Lo Star Destroyer Siamo qua, abbiamo trovato lo Star Destroyer Sì ragazzi, questo gioco è inglese Però cercherò di tradurre Le luci sono spente, sembra abbandonato Bene, stiamo entrando nella nave Questa non sarà una buona idea Wow Oh wow Oddio Oh wow, ok Oh ok, è tutti morti Uno non ha la testa C'è sangue ovunque, qualcosa di serio è successo Vogliamo inspettare la nave Ovviamente, vogliamo investigare ovviamente Oddio Un massacro è successo qua Nemmeno le porte funzionano bene Ok Oddio una testa Oddio Puoi vedere che si sveglia Si sveglierà Lo sapevo Oddio Eccolo, si è risvegliato Ecco Si sta stiracchiando E vabbè Credo che siamo tutti quando ci svegliamo Interessante Interessante Star Wars Death Trooper Eccoci qua Esplora i corridoi Va bene ragazzi Siamo nel gioco Guardate Posso mirare La grafica è bellissima Qua è tutto rosso Qua c'è un sacco di sangue Chi è? Oddio un robot Salve Sei anche tu infetto? Probabile Bellissima l'atmosfera Mi piace un sacco Dobbiamo stare attenti A non finire bloccati Sono ritornati indietro io Ce lo vuole far vedere il gioco Ecco lo sapevo Il tizio che si è svegliato Oh no Ecco il tuo amico è vivo Guarda Oddio Sparagli Fai qualcosa Uccidi Oddio Sopravvivi? Oh no Li dobbiamo rompere? Non funziona La mia Oddio Dobbiamo sopravvivere Per quattro minuti Non riesco a sparare Ragazzi Ah Ok Devo mirare Per sparare Ok Salve Muori Ok Bene Dobbiamo sopravvivere Per quattro minuti Dobbiamo uccidere Tutti questi Non riesco a mirare Oh non funziona Eh vabbè Non riesco a mirare Ragazzi Anche Oh Lasciatemi Eh vabbè Già muoio Andate via Eh non riesco più a sparare Però No Si è scaricata l'arma No aiuto Lasciatemi in pace Perché non corri Porca miseria Ok vai vai Scusi Il mirino non serve a molto Perché io devo Tipo sfiorarli Per prenderli Ed è Eh vabbè E vabbè muoio Eh sì E vabbè Sto bloccato Salve Oh Lasciatemi Dove sono Non vedo niente Sono bloccato Ho ucciso tutti Come ho fatto Non lo so Andate via Da questo posto Ecco Madonna quanti Salve muori Grazie Vieni Vieni qua Venite tutti qua Non ho paura di voi Bene 3 minuti ragazzi 3 minuti Ce la possiamo fare Sto uccidendo Sto facendo un massacro Benissimo Benissimo Qua ce n'è uno Uccidiamo lui Sembra brutto Uccidiamo questa polla Che è più brutta Degli altri Siete brutti Bene Guarda qua Bene 2 minuti ragazzi Qua ce ne staranno molti Alcuni probabilmente Buggati Qua chi c'è C'è un tizio lì Ci stanno tizi là Uccido questo Che mi sta Le calcagne Vieni Venite tutti Oddio Non funziona più l'arma Ok un minuto ragazzi Un minuto Un minuto Ce la facciamo Ce la facciamo È easy questo gioco Non è un problema Per me Non è un problema Avviciniamoci Questo non muore È indistruttibile Pure lui Buongiorno Muori per favore Ecco Bene Meno male che Non ci stanno i robot zombie Oddio ce ne stanno tre qui Questo non muore però E poi non mi piace Che devo mirare per sparare Perché se non miro Non vuole sparare Easy Uccido tutti qua Ma lui non vuole morire Oddio Che state Oddio Che state facendo Per favore Basta Ma levatevi dal cavolo Non mi piacete voi Eh vabbè Oddio Basta eh Ecco Qua muori Oh muori Per favore Oh morto Finalmente Vieni Vieni qua Vieni qua C'è qualcuno Dietro di me Non c'è nessuno Bene Allora Qua Ecco qui Oh se mi ammazzate Vi ammazzate Oh Tu che mi pauri Eh vabbè Ma è che sta Scusa Ci manca pochissimo Ragazzi 15 secondi 10 secondi Eh sì Ce la facciamo Ce la facciamo 5 4 3 2 Siamo fermati Al 2 Bene ce l'abbiamo fatta Ragazzi Eccomi qua Sì Eccoci qua Si sono fermati Si sono fermati Come mai Che sta succedendo Oddio si è aperta La porta dietro di me Non mi No 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 Eh Non possono aver messo Darth Vader Ma cosa vuoi fare Non lo puoi Sparare Non puoi sparare Darth Vader No Non mi fate fare Il bad No Non me lo fate combattere Guarda i suoi occhi E' uno zombie Ovviamente è uno zombie E' stato infettato Anche Darth Vader Voglio vedere Darth Vader Oh mamma Eh E beh ci ha fatto male Porca mi Eh No vabbè Ci ha tagliato in due Oddio Va bene ragazzi Se questo gioco Vi sia piaciuto Spolliciate Iscrivetevi Attivate la campanellina Condividete il video Questo gioco Era interessante C'erano molti soldati Che si bloccavano Però era un bene Però l'atmosfera C'era Questo Questo mini horror Mi è piaciuto Scrivete nei commenti Se vi è piaciuto Anche a voi E detto questo Ci vediamo ad un prossimo video Ciao 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 Musica